avete scelto la vostra prossima meta sulla cartografia perfetto andate con il dito selezionate il punto di arrivo e attivate la funzione auto guidance il sistema in assoluta velocità e in assoluta sicurezza creerà una rotta automatica dal vostro punto di partenza al punto di arrivo e nel caso in cui lo abbiate vi chiederà se volete attivare l'autopilota in questo modo scegliendo su attiva il pilota automatico vi guiderà dal vostro punto di partenza al punto di arrivo in totale sicurezza nel più breve tempo possibile